Tutto un gioco di carte magnetiche, quelle di un facchino d'albergo innanzitutto, il suo passepartout che gli consentiva di entrare nelle camere e grazie a uno scheme rapportati da clonare le carte di credito degli inari turisti. Poi, attraverso un altro apparecchio, lo scheme writer, il resto dell'organizzazione poteva riscrivere il codice su una qualsiasi altro badge che avesse la banda magnetica, compresa le tessere sanitarie che potevano così diventare estemporanei bancomat. Un gruppo ben organizzato, in buona parte composto da elementi che avevano già precedenti specifici, che ha messo in piedi un giro d'affari di qualche centinaio di migliaia di euro. La procura di Venezia ha emesso 5 ordinanze di custodia cautelare, di cui 3 eseguite nella mattinata di giovedì dai carabinieri di Mestre. In carcere è finita la mente del sodalizio, un 28enne rumeno fermato dai militi ad Alba, in provincia di Cuneo. Suoi connazionali anche il facchino alberchiero, 27enne domiciliato a Mestre, e i due elementi al momento sfuggiti alla cattura. Unico italiano, un 34enne di Marghera. A tutti viene attribuito il reato di clonazione di carte di credito e utilizzo fraudolento delle stesse. Gli acquisti venivano effettuati sia su internet che in centri commerciali. Uno dei rumeni, ancora più del libro, aveva aperto conti correnti in varie banche per poter avere i post portatili, utili a prelevare direttamente il denaro contante. E fra i truffati risulta anche il possessore di una carta di credito della NASA, l'Istituto Spaziale Americano, ma l'FBI non ha consentito l'erogatoria internazionale per far conoscere la sua identità.